L'erba è verde. Sono usciti. L'erba dal vicino è sempre più buona. L'erba dell'ufficio è sempre più buona. Dunque praticamente ci sono visto questo video che questo spiegava cosa... Caffè? Esatto, è caffè, però è rosso. Questo è visuale. Nessuno lo sa perché non è inquadrata lì sopra. Nessuno sa cosa. È mirtillo. Sì, rosso di mirtillo buon tempo si spera. Facciamo come gli americani. E l'americane è... Gli americani? Esatto. Da dove era sta cosa? Pingu. Ah esatto. Pingu. Pingu compa, i poop su YouTube. Pingu e gli americani. Sì, compa. Se lo ricordi Pingu? Sì, Pingu me lo ricordo. Eh, praticamente su YouTube ci sono questi video di lui che è doppiato. Ok? Cioè in realtà non è che lui è doppiato, semplicemente è sottotitolato. Sottotitolato. E quindi lui tipo dice cose... E c'è scritto sotto tipo... C'è scritte cose che sembra che dice. Ma fa morire le risate perché dice cose ovviamente che non hanno nessun cazzo. Quelli fatti bene. Dopo ci assomiglia davvero e poi lo senti davvero. Esatto. Pingu dice di americane. Dice anche cose bruttissime a sua madre. Sì, è un po' di nuovo terribile a sua madre. Ma non c'era la luna. Ma quello che non riesco a ricordarne manco uno. La luna non c'è. Inquadriamo i fiorellini rosa. I fiorellini rosa. Sta roba di tommaggio a rosa. Portorola si è inizia.